Gli uomini di governo italiani, subito dopo la guerra, dopo il 45, si trovano dinanzi a una riscoperta e tragica che una parte di Italia era anche al di là del Mediterraneo, in Africa. La più vicina era a pochi chilometri in Libia. Che storia ha avuto questo pezzo di Italia sul suolo africano? È stata sicuramente una storia molto controversa e una storia sofferta, perché nel 1945 l'Italia democratica, non ancora repubblicana, perché si parla di Italia repubblicana solo dopo il 2 giugno del 46. Comunque, tra il 45 e il 47, essenzialmente, gli sforzi dei governi guidati da De Gasperi e con Carlo Sforza al Ministero degli Esteri, tentarono in più modi, come stanno a testimoniare numerosissimi documenti che possono essere visti al Ministero degli Esteri, cercarono in più modi di bussare alla porta degli alleati, quindi ora della Gran Bretagna, ora degli Stati Uniti, meno della Francia e ancora meno dell'Unione Sovietica, per far valere le proprie presunte ragioni sul fatto che l'Italia, avendo in qualche modo partecipato dal settembre del 43 fino al maggio del 45, con la cosiddetta cobelligeranza alla sconfitta della Germania nazista, l'auspicio, l'intento era quello di vedersi riconosciuto questo sforzo mantenendo le cosiddette colonie prefasciste. Allora, se uno va a vedere, ovviamente il colonialismo non nasce col fascismo, il colonialismo nasce in età crispina, nella seconda metà dell'Ottocento con l'occupazione dell'Eritrea e della Somalia. Prosegue poi in età giolittiana con la conquista della Libia, sottratta all'impero turco ottomano nella guerra tra l'11 e il 12 e poi indubbiamente ha il suo acme nella campagna d'Etiopia condotta da Mussolini tra il 35 e il 36. Quindi in sostanza i nostri governanti, i nostri diplomatici, come per esempio il nostro diplomatico Carandini a Londra, cercavano in tutti i modi di salvare il salvabile e quindi di poter mantenere, magari sotto forma di amministrazione fiduciaria, quella che in inglese si definisce Trustship, un'amministrazione fiduciaria quantomeno sulla Libia o si era disposti anche a una sola parte della Libia, vale a dire la Tripolitania, cioè quella regione, perché come sapete la Libia è suddivisa sostanzialmente in tre grandi regioni, Cirenaica, Tripolitania e Fezzan, quella Tripolitania dove risiedevano nel 1945 il 98-99% degli italiani rimasti in Libia, che secondo stime abbastanza attendibili si aggirava tra le 47 e le 49.000 unità. Ci si potrebbe domandare ma perché questa concentrazione proprio in Tripolitania? La domanda è più che legittima, ma innanzitutto perché il Fezzan è la regione più interna dominata quasi per intero dal deserto, quindi è una zona molto, era ed è ancora oggi, molto impervia e assai poco ospitale per viverci. Secondo perché in Cirenaica, dove pure era stata presente una forte componente di nostri connazionali, soprattutto a partire dagli anni 30 in poi, quando i cosiddetti rurali, come venivano chiamati dalla propaganda fascista del tempo, invitati, sollecitati, stimolati dal regime e dall'allora governatore della Libia, Balbo, erano andati non solo in Tripolitania ma anche in Cirenaica dove avevano creato una serie di villaggi colonici, in genere sulla fascia costiera, la zona con un clima più temperato e dove era più facile provare a trasformare quelle terre in qualcosa di, come potremmo dire, in un qualcosa di economicamente fattibile e conveniente, perché non ci dimentichiamo mai che fin dalla conquista, quindi fin dalla guerra dell'11-12, furono in molti a dubitare sulla convenienza economica di conquistare quello che Salvemini definì sprezzantemente uno scatolone di sabbia, ovviamente si ignorava completamente che la Libia fosse un paese che praticamente galleggiava e galleggia ancora oggi su un oceano di petrolio e di gas metano e quindi essendo l'Italia un paese all'epoca molto povero di capitali e quindi non avendo sostanzialmente soldi da investire, la Libia era un paese arretratissimo, uno dei più poveri al mondo, privo praticamente di tutto, a cominciare dalle più elementari infrastrutture e appunto sorse il dubbio a molti che fosse conveniente questa conquista e infatti mi piace riportare brevemente la considerazione sarcastica ma che incoglieva nel segno di un colono, di un che era andato in Libia sperando di far fortuna appunto con uno dei poderi che poi le istituzioni italiane e dell'Italia fascista assegnavano ai vari coloni e quando diceva ad anni di distanza che se era vero che Cristo si era fermato a Eboli doveva essere altrettanto vero che in Tripolitania non aveva mandato neppure un apostolo, questo appunto a conferma del fatto che fosse una terra apparentemente molto ingrata e difficile da rendere economicamente vantaggiosa. Ma facciamo un passo indietro, in questi anni queste sono le speranze da parte della classe dirigente italiana e anche le speranze di una parte dell'opinione pubblica, perché l'opinione pubblica è ancora abbastanza interessata a quelle che saranno le sorti, a quelle che sarebbero potute essere le sorti delle nostre ex colonie durante il dibattito degli anni 45, 46, 47, cioè fino a quando il 10 febbraio del 47 non arriva la doccia fredda e cioè il famoso trattato di pace che in base al principio della resa incondizionata imposto all'Italia, in barba alle tante speranze che avevamo coltivato, che gli alleati potessero in qualche modo renderci meno amara la pillola per lo status di paese cobelligerante, gli alleati invece non lo fecero, non si dimenticarono che l'Italia tra il 40 e il 43 era stata uno dei paesi corresponsabili della seconda guerra mondiale, che aveva invaso, se cominciamo addirittura dal 35, aveva dichiarato guerra a mezzo mondo, all'Etiopia, alla Francia, alla Gran Bretagna, alla Grecia, all'ex sovietica e quindi gli alleati al momento del rendiconto ce lo presentarono con tutti gli interessi, quindi all'Italia venivano sottratte non solo tutte le sue ex colonie, poi ci sarà un capitolo a parte con la Somalia che dal 50 al 60 conoscerà un periodo di amministrazione fiduciaria italiana, ma comunque nel 47 l'Italia deve accettare il dato di fatto di perdere tutti i suoi possedimenti senza alcuna distinzione tra possedimenti conquistati dal o prima del fascismo, oltre a le amputazioni territoriali abbastanza consistenti lungo il confine del nord-est in favore della nuova Jugoslavia Titina. E quindi questo trattato di pace, come potremmo dire, squarcia il velo delle ipotesi, delle speranze, delle illusioni che in tanti si erano fatti di poter mantenere una parvenza di grande potenza. L'Italia invece viene relegata di fatto a una media potenza, senza più alcune, non solo colonie, ma neanche alcun possedimento oltremare. E qui inizia un'altra storia, inizia un'altra storia perché ovviamente dopo il 47 comincia a calare una cortina di oblio, di silenzio su questi nostri connazionali. Dovuta anche a vari fattori a livello di politica anche internazionale, si pensi al fatto che gli italiani si trattò per esempio di… lo dico per far capire la complessità delle relazioni internazionali e quanti interessi economici, strategici, geopolitici entravano nel discorso più generale. Quando si trattò, per farla breve, di prendere una decisione se richiamare in Italia con l'estradizione quelli che le nostre procure militari avevano individuato come probabili criminali di guerra tedeschi nel 1957, ci fu un eloquente scambio di missive tra l'allora i due ministri della difesa, Paolo Emilio Taviani e Gaetano Martino, ministro degli esteri, in cui si decise quello che poi sarebbe stato molti anni dopo la scelta strategica che avrebbe portato al famoso armadio della vergogna, cioè che questi incartamenti andavano chiusi, sigillati, insabbiati, messi in un appunto armadio con le famose ante rivolte verso il muro. Perché? Ma perché gli italiani continuavano a non voler fare i conti nel proprio passato pensando di essere stati sempre, solo ed esclusivamente vittime. Questo è vero in parte, ma gli italiani si erano anche macchiati di crimini atroci in Libia, con il generale Graziani che aveva condotto una feroce, spietata repressione per la riconquista della Libia tra il 29 e il 31, istituendo anche dei campi di concentramento, uccidendo il bestiame, deportando centinaia di migliaia di libici, facendo impiccare il famoso simbolo della lotta per l'indipendenza libica, cioè Omar el-Muqtar, per non parlare poi dei tanti crimini che le truppe italiane avevano commesso soprattutto nei Balcani. E quindi lì il discorso era molto semplice, i due ministri se lo dicono proprio chiaramente, se noi adesso andiamo a mettere le mani in questo vespaio, chiediamo l'estradizione alla Repubblica Federale Tedesca, la Germania Occidentale, con la quale tra l'altro c'era un volume di import-export già negli anni 50 pazzesco, è il 57, è l'anno dei trattati di Roma, è nata la CECA, sta nascendo la CE, quindi si vuole anche coinvolgere sempre di più la Germania Democratica Occidentale nella costruzione della nuova Europa e la Germania Occidentale Democratica è molto utile a noi dal punto di vista economico. Si capisce subito che è una strada pericolosissima, perché nel momento in cui le autorità italiane avessero creato il precedente di richiedere giustamente quelli che a torto ragione andavano comunque portati in processo, per vedere se fossero stati colpevoli o no tra i tedeschi, era giocoforza ed era facile pensare che altrettanto avrebbero fatto le autorità libiche o le autorità dell'ex Jugoslavia nei nostri confronti, perché già si sa che avevano redatto delle liste di ufficiali italiani accusati da questi paesi di essere criminali e quindi questo silenzio forzato che cala sui nostri connazionali fu squarciato per la prima volta da quello che può essere considerato il pioniere di questi studi, vale a dire Angelo del Boga, che negli anni 70 dedicò passione, tempo, energie a ricostruire le vicende in generale degli italiani in Africa, in Etiopia, in Eritrea, in Somalia, ma anche in Libia, con, nonostante tutti i suoi meriti, con un pizzico forse di, come potremmo dire, prevenzione eccessivo, data, come potremmo dire, l'aura, l'ambiente, l'atmosfera che si viveva in Italia e nel mondo occidentale tra la fine degli anni 60 e primi anni 70, quindi terzo mondismo a tutta manetta, anti-occidentalismo, però va riconosciuto a Del Boga anche l'onestà intellettuale di aver riconosciuto, di aver rivisto le sue posizioni in parte, quando in una intervista di una decina di anni fa, rilasciata al Corriere della Sera, disse che sì, in effetti lui aveva, riferendosi all'Etiopia, ma secondo me questo è un discorso che si può estendere anche alla Libia, aveva in effetti a volte esagerato nei toni critici nei confronti della nostra occupazione, proprio perché riteneva che l'Italia moralmente si fosse comportata in maniera inaccettabile e quindi era giusto che uno storico, come potremmo dire, evidenziasse al massimo, anche eccessivamente, quelli che erano stati i numerosi torti dell'occupazione italiana, quindi va detto che va data l'onestà intellettuale allo storico che in un secondo momento ha avuto il coraggio di rivedere alcune sue posizioni. Questa situazione degli italiani in Libia aveva conosciuto una drammatica trasformazione già dal gennaio del 1943, perché questo fronte in Africa tra, da una parte, le truppe italo-tedesche guidate da Roma e dall'altra le truppe anglo-americane guidate da Montgomery, combattono sul fronte nord-africano, quindi tra l'Egitto e la Libia e poi infine anche in Tunisia, seguendo l'andamento di, come metaforicamente parlando, un gigantesco elastico che ora si spostava verso est quando l'iniziativa era nelle mani dell'avanzata degli italo-tedeschi che avevano questo miraggio di andare a conquistare Alessandria d'Egitto. Ora invece si spostava verso ovest quando erano gli anglo-americani a rintuzzare i colpi e a spingersi verso la Libia. Ecco perché in Cirenaica, che fu proprio nell'occhio del ciclone, per questi vari passaggi di fronte, la stragrande maggioranza dei nostri coloni lì presenti decisero già in tempo di guerra, 1941, 1942, 1943, o di spostarsi in Tripolitania o di rientrare direttamente in Italia. Quindi quando nel 1943 si insedia a Tripoli la British Military Administration, la presenza degli italiani è stimata grossomodo tra le 47.000 e le 49.000 unità, concentrate essenzialmente in Tripolitania. Abbiamo detto il Fezzan, zona desertica o semidesertica in ospedale, la Cirenaica era stata travolta dai vari passaggi del fronte e quindi anche questi poteri, questi villaggi, come potremmo dire, rurali, ne avevano subito le conseguenze. E l'impatto è durissimo con gli inglesi, perché contrariamente a quello che avrebbero visto, vissuto i nostri connazionali in Italia, in cui a eccezione dei nostalgici o di quelli che addirittura si schierarono contro, aderendo alla Repubblica Sociale di Mussolini, di fatto si può dire che o per comodità o per convinzione la maggioranza degli italiani vide negli alleati degli angloamericani liberatori. Ecco, così non fu per gli italiani di Libia, perché invece gli inglesi, in genere nelle nostre ex colonie, anche in Etiopia, furono molto molto duri nei confronti dei nostri connazionali e usarono tutt'altro atteggiamento, perché non mancava giorno in cui essi non ricordassero ai nostri connazionali di essere stati declassati dall'oggi al domani, quindi non erano più i colonizzatori, ma erano solo una minoranza tra le tante, per di più mal vista dai nuovi occupanti, e che cercavano in tutti i modi di aizzare sentimenti anti-italiani anche nelle masse della popolazione locale, in Etiopia e in quelle arabe della Libia. Quindi gli inglesi avevano tra l'altro, le truppe inglesi intendo, avevano tra l'altro l'esplicito divieto di fraternizzazione con la minoranza italiana locale, quindi quanto di più antitetico rispetto all'atteggiamento e alla condotta degli angloamericani nella nostra penisola italiana. Anche perché nelle colonie gli inglesi fecero sentire tutto il loro risentimento nei confronti degli italiani, che avevano comunque coinvolto la Gran Bretagna con la scelleratissima campagna dichiarata nel 1940, li avevano impensieriti seriamente, soprattutto nel Mediterraneo con la Marina italiana, che delle tre era la migliore arma che avevamo, ci consideravano sempre un paese aggressore e quindi un paese che aveva contribuito, seppur in misura minore, ai bombardamenti massicci sulla Gran Bretagna e quindi ci volevano rendere il pan per focaccio, quindi farci pagare con tutti gli interessi questo attacco, questo assalto, questa aggressione che avevamo fatto nei loro confronti e a farne le spese quindi furono soprattutto i nostri connazionali d'oltremare. Le testimonianze sono tante, abbondano, confermano questi atteggiamenti anti-italiani, quindi di forte prevenzione nei confronti della nostra collettività e in genere questi sentimenti venivano puntualmente registrati dai diplomatici, i funzionari che il nostro Ministero degli Esteri inviava periodicamente in Libia per tastare il pozzo della situazione e in una di queste informative del 1946 questo funzionario della Farnesina scriveva senza peli sulla lingua, pertanto tutta l'attività della British Military Administration di Tripoli appare diretta ad un unico scopo ben precisato, cioè quello di scalzare in ogni modo le posizioni economiche, morali, etniche dell'Italia nelle province libiche, al fine di stabilire le premesse politiche e di fatto atte a creare dei pretesti per impedire il ritorno di quelle province all'Italia. Nessun altro scopo infatti possono avere le disposizioni adottate e mantenute colà quali la chiusura delle banche italiane e la loro sostituzione con banche inglesi, le disposizioni che conducono in rovina enti industriali e commerciali italiani un tempo fiorenti e il forzato passaggio di questi in altre mani. Il divieto fatto ai rappresentanti di importanti società italiane e italiane di recarsi in Libia per tutelare gli interessi delle società stesse, l'isolamento nel quale la Libia è mantenuta rispetto all'Italia con le difficoltà frapposte al libero transito delle persone e delle merci dall'una all'altra regione. Quindi un'altra enorme difficoltà che dovettero affrontare durante i duri anni dell'amministrazione militare britannica tra il 43 e il 47 degli italiani fu quello di essere in gran parte isolati a livello anche di comunicazione con la madrepatria perché i contatti erano molto sporadici, perché gli inglesi frapponevano molti ostacoli anche sotto il profilo burocratico per esempio ai tanti ricongiungimenti familiari. Mi riferisco per esempio a quelle famiglie che in prossimità dell'arrivo del fronte si erano cautelate decidendo di inviare i propri figli che magari avevano salutato bambini e se li ritrovavano cresciuti adolescenti in Italia perché pensavano che fossero più al sicuro in Italia piuttosto che in Libia presa dal ciclone in pieno della guerra. E quindi questi ricongiungimenti familiari erano molto lenti, molto laboriosi anche perché in genere gli inglesi adottavano la scoraggiante politica dello scambio uno a uno, cioè sostanzialmente accettavano l'eventuale ricongiungimento del figlio X con la famiglia Y quando però avevano la certezza che un altro connazionale italiano aveva fatto i documenti e aveva abbandonato definitivamente la Libia. Quindi potete capire anche lo stilicidio, la lentezza di questi ricongiungimenti familiari per i quali occorsero anni e quindi la sofferenza che stimolava ovviamente che cosa? Sentimenti di astio e di forte risentimento nei confronti dei britannici. Quindi gli inglesi dal loro punto di vista come si difendevano? Si difendevano dicendo ma noi siamo costretti di fatto a usare il pugno duro perché gli italiani di Libia sono ancora intrisi di fascismo, sono ancora imbevuti di nostalgia per il precedente regime, per la precedente dittatura, non conoscono le istituzioni democratiche e quindi noi siamo costretti a governare col pugno di ferro. Ma era un cortocircuito, era un cane che si mordeva la coda perché è ovvio che più gli inglesi come potremmo dire premevano sull'acceleratore della deitalianizzazione della Tripolitania, degli ostacoli che inframettevano ai ricongiungimenti familiari, alla riapertura delle attività economiche, al fatto che si potessero instaurare dei contatti periodici e frequenti con la madrepatria anche per lo scambio dell'import-export che c'era stato fino al 1940. Più avveniva questo e di conseguenza era un po' come la teoria dei vasi comunicanti, più gli italiani vedevano negli inglesi un odioso vincitore, un arrogante occupante e quindi questo certo non faceva che facilitare in alcuni di essi, obiettivamente questo è vero, dei sentimenti apertamente nostalgici nei confronti del precedente regime. Però ripeto, era un gioco delle parti in cui sembrava che ognuna delle due giocasse a ricoprire questo ruolo. Pensiamo ad un esempio fondamentale sulla differenza di cui si parlava prima tra gli angoli americani in Italia e gli inglesi in Libia. Gli angoli americani in Italia consentono, non dico subito, ma insomma già nel ottobre del 1943 la formazione del nuovo governo Badoglio sotto Vittorio Emanuele III che poi da Brindisi si sposterà a Salerno e poi a Roma, il governo Bonomi etc. Quindi seppur cautamente ma consentono il riavvio e il ripristino di una fisiologica vita politica e quindi anche di una fisiologica vita dei partiti politici, quindi del dibattito culturale, dell'opinione pubblica etc. Tutto questo in Libia non c'è, anzi c'è l'esatto interesse, perché in Libia la British Military Administration tra i vari divieti pone quello esplicito che gli italiani non debbano creare partiti politici, non debbano occuparsi di politica, non debbano fare politica. Quindi da un lato questo, dall'altro le notizie che arrivavano in maniera sempre a scoppio ritardato di quello che era avvenuto in Italia, quindi questo cattivo collegamento su quanto avveniva nella madrepatria e isolano ancora di più gli italiani di Libia, che quindi cercano in qualche modo di trovare una soluzione, anche se sbagliata, nel fare gruppo, nel cercare di essere il più coesi possibile, anche a volte facendo ricorso a questo esasperato senso di appartenenza dal vecchio impero fascista, alle vecchie istituzioni. E quindi gli inglesi portano avanti in Tripolitania un processo di aperta deitalianizzazione, per favorire non solo le altre minoranze, quella ebraica, quella maltese, quella greca, ma soprattutto per favorire le masse arabe e per cercare di avvelenare avvelenare il più possibile i rapporti tra arabi e italiani in maniera tale che per questi ultimi, cioè per gli italiani, si capisse che era venuto il momento di fare le valigie e di tornarsene nella propria madrepatria. Abbiamo già detto degli sforzi inani dei nostri governi tra il 45 e il 47 per cercare di ottenere almeno un'amministrazione fiduciaria, se non di un'intera colonia, ma di una parte di essa. Quindi siccome il grosso degli italiani in Lidia, abbiamo detto, si concentrava nella Tripolitania, alla fine il focus era quello di ottenere una amministrazione fiduciaria sulla Tripolitania, ma gli inglesi mai e poi mai avrebbero accettato una proseguizione della presenza italiana sul Mediterraneo. E quindi questi italiani vivono questi anni dell'occupazione militare britannica e poi della nascita quando finalmente si prende la decisione all'ONU che nel 1949 la Libia non sarebbe andata a nessun paese sotto forma di amministrazione fiduciaria, ma che Fetsan, Tripolitania e Cirinaica sarebbero stati di nuovo riunificati sotto la Libia, questa volta però indipendente, con un governo monarchico da affidare al Senusso, Idris I, quindi a capo di una delle più importanti clan libici della Cirinaica, appunto in questi anni gli italiani vivono, io ho scritto in apnea, sono in uno stato di perenne angoscia perché non sanno che cosa gli riserverà il domani, non solo quando c'è la dura occupazione britannica, ma anche dopo perché come vedremo vivono i primi anni della monarchia di Idris sempre con grande ansia perché attendevano, anelavano a un trattato, a un accordo in qualche modo tra il governo di Roma e il governo di Tripoli che cercasse di sanare il precedente e gestire il presente e quindi definire anche lo status di loro, cioè noi che cosa siamo qui, siamo ospiti, ospiti indesiderati, cittadini di Serie B, soprattutto che cosa ne è delle nostre proprietà, perché gli inglesi per esempio in questo erano stati molto chiari, fin dall'inizio della loro amministrazione tutte le proprietà pubbliche che erano quindi state in mano alle istituzioni italiane e anche al PNF, al Partito Nazionale Fascista, vennero tutte espropriate immediatamente. Quindi in gioco adesso era invece il futuro, la destinazione delle proprietà immobiliari private, quindi aziende, case, terreni eccetera eccetera, che fine avrebbero fatto? Sarebbero rimaste agli italiani oppure no? Volevo finire una cosa perché mi sembrava molto interessante una testimonianza, una testimonianza sempre del 1946, in cui un altro funzionario della Farnesina fa un sopralluogo in Libia di diverse settimane e manda dei puntuali, come potremmo dire comunicati al ministro e in uno di questi scrive, stiamo quindi alla fine del 1946, quindi in Italia c'è già il regime repubblicano, novembre 1946, sta lavorando l'assemblea costituente eccetera eccetera, scrive, nell'esame della situazione politica va considerata la particolare situazione di disagio cui volutamente per certo sono stati condotti gli italiani, circa 40.000, che popolano il territorio e costituiscono una bella colonia del braccio e del pensiero. Gli italiani hanno sinora vissuto a Tripoli e negli altri centri essenzialmente agricoli del territorio tripolitano, completamente separati dalla madre patria e dal resto del mondo, italiani conservati in iscatola dalla data dell'occupazione, gennaio 1943. Imposizione i cittadini di un paese vinto, senza una protezione adeguata, con la sensazione non soltanto di essere isolati, ma dimenticati e trascurati dallo stesso governo italiano, che essi pensano non abbia pensato a tutelare abbastanza i frutti delle loro fatiche di colonizzatori. Verso gli inglesi, questi inglesi spesso anche funzionari non troppo cortesi nei premurosi degli interessi italiani, rigidi, freddi esecutori di norme amministrative minuziosamente irritanti, italiani di Tripoli nutrono tuttora un giustificato rancore. Grazie a tutti.